Nuova edizione di Spazio Notizia, rieccoci ben ritrovati. Su Sicilia 24, la cronaca in primo piano partendo da Adrano nel Catanese dove una 77enne è stato tratto in arresto ed è finito in carcere e accusato di furto di energia elettrica. Agenti del commissariato di Adrano lo scorso 5 gennaio hanno arrestato per esecuzione pena un uomo di 77 anni condannato a scontare un anno di reclusione per furto di energia elettrica. I poliziotti hanno dato esecuzione a quanto disposto dall'autorità giudiziaria che ha ordinato la reclusione del soggetto alla luce dell'inefficacia dell'ordinanza di concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali a cui era sottoposto. Infatti non avendo mai ottemperato agli obblighi imposti dalla citata misura alternativa, il Tribunale di Sorveglianza ha deciso di revocare il beneficio anni addietro concesso. Ultimati gli accertamenti di rito, l'uomo è stato portato presso la casa circondariale Piazza Lanza dove sconterà la pena residua. A Catania invece un 35enne è stato arrestato per evasione, tra le altre cose ha tentato anche di uccidere il cane degli zii. Tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza un pregiudicato catanese di 35 anni per evasione, maltrattamenti contro familiari o conviventi e maltrattamento di animali. L'equipaggio del nucleo radiomobile mentre transitava lungo la via Capopassero è stato avvicinato dal 35enne che dopo avergli fatto cenno di fermarsi ha loro riferito di essere sottoposto agli arresti domiciliari presso l'abitazione degli zii dalla quale era però evaso. Dopo i preliminari accertamenti i militari constatato che quanto riferito loro dal 35enne corrispondeva effettivamente a realtà hanno accompagnato l'uomo presso la caserma di San Giuseppe Larena dove però venivano subito avvertiti dall'operatore della centrale della richiesta di intervento da parte di una coppia di circa 50 anni, entrambi residenti in via Capopassero, che denunciava la fuga del nipote dalla loro abitazione dove si trovava detenuto. Hanno quindi raggiunto l'abitazione dei denuncianti i quali hanno raccontato dei disagi affrontati nel permettere al nipote di trascorrere i domiciliari presso la loro abitazione ma soprattutto delle innumerevoli intemperanze, violenze e vessazioni che avrebbero dovuto subire da parte di quest'ultimo consumatore anche di sostanze stupefacenti. In particolare gli zii hanno riferito ai militari che il nipote spesso li minacciava di morte procurandosi arnesi in cucina e che tali liti venivano solitamente risolte dai vicini che intervenivano in loro aiuto per placare la sua ira. Addirittura in quell'ultima occasione il nipote, prima di abbandonare l'abitazione e consegnarsi spontaneamente ai militari per disprezzo nei loro confronti, avrebbe afferrato il loro cagnolino, un volpino di colore nero, lanciandolo in strada attraverso la finestra. Circostanza questa constatata dagli stessi carabinieri per la presenza in quel momento del cane che manifestava evidente zoppia nelle zampe posteriori. Addirittura nel giorno di Natale, dopo l'ennesima lite in cui avrebbe loro messo a suo quadro la casa, sarebbe evaso dai domiciliari recandosi presso l'abitazione dei vicini di casa, dove in quel momento si rendeva omaggio alla salma di una donna. Il 35enne in particolare si sarebbe accanito contro le ghirlande di fiori, gettandole successivamente in strada, dove le avrebbe successivamente calpestate. L'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto e disposto la sua permanenza in custodia cautelare presso il carcere catenese di Piazza Lanza. Un altro arresto per furto di energia elettrica, stavolta a Trapani, a finire in carcere è un 63enne. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Trapani hanno arrestato un 63enne originario di Palermo, ma residente nel Trapanese, già gravato da precedenti, nei cui confronti era stato emesso un ordine per la carcerazione. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Palermo a seguito di una sentenza di condanna a otto mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. In particolare, le indagini dei carabinieri avevano permesso di identificare nell'arrestato il responsabile di un furto aggravato di energia elettrica a beneficio della propria abitazione di residenza commesso a Palermo nel 2013. I gravi indizi di colpevolezza raccolti dai militari dell'arma hanno sostenuto la tesi dell'accusa fino all'emissione della sentenza di condanna definitiva. Pertanto, al termine delle formalità di rito, i carabinieri hanno condotto il 63enne presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani. Accecato dalla gelosia ha aggredito l'ex compagna dentro casa. Il fatto è avvenuto a Belpasso, nel Catanese, e un uomo è stato arrestato dai carabinieri. Il servizio. I carabinieri della stazione di Belpasso hanno arrestato in flagranza un catanese di 28 anni già noto alle forze dell'ordine per atti persecutori. I militari si sono recati presso l'abitazione di una 26enne residente nella periferia belpassese a seguito della sua richiesta d'aiuto al 112, poiché ha riferito di essere stata aggredita dall'ex compagno già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a seguito delle denunce sporte dal 26enne nei suoi confronti per maltrattamenti. I carabinieri appena giunti presso l'abitazione in questione hanno assunto le prime dichiarazioni dalla donna che ha loro riferito di essere stata oggetto tramite messaggi telefonici sin dalla notte di Capodanno di minacce di morte e frasi ingiuriose da parte dell'ex compagno che accecato dalla gelosia l'accusava tra l'altro di non essere per la sua scarsa moralità una buona madre per i loro figli minori. Quella sera poi il 28enne complice anche il fatto che il fratello della donna aveva dimenticato aperta la porta di casa si sarebbe introdotto all'interno dell'abitazione aggredendo la ex ma quest'ultima istintivamente è riuscita ad attivare il suo cellulare registrando in video l'uomo che colto alla sprovvista si era allontanato salvo poi ritornare sui suoi passi afferrandola per le braccia e mettendole le mani sul collo. La poveretta è comunque riuscita a divincolarsi e ad allontanare l'ex compagno chiamando immediatamente dopo i carabinieri i quali dopo averla invitata in caserma per sporgere la formale denuncia hanno anche verificato come l'uomo anche in quel momento stesse inviando le messaggi vocali con i quali minacciava la sua incolumità. Il 28enne come disposto dall'autorità giudiziaria è stato associato nell'immediatezza al carcere catenese di Piazza Lanza quindi dopo la successiva convalida dell'arresto posto ai domiciliari. Da Belpasso a Siracusa dove i carabinieri hanno invece individuato e tratto in arresto l'autore del ferimento di un uomo a colpi di arma da fuoco avvenuto la notte del 30 dicembre in città. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Siracusa hanno identificato e arrestato l'autore del ferimento a colpi di arma da fuoco di un uomo avvenuto a ridosso del capodanno nel quartiere Borgata di Siracusa. Si tratta di un tortoriciano di 54 anni con numerosi precedenti penali il quale dopo aver ferito gravemente la vittima si era reso irreperibile fin tanto che i militari lo hanno rintracciato e arrestato su esecuzione di misura cautelare emesso dall'autorità giudiziaria di Siracusa sulla scorta dei gravi indizi raccolti durante le indagini. La notte del 30 dicembre 2022 l'uomo a seguito di una discussione per futili motivi aveva estratto una pistola e aveva esploso due colpi diretti alle gambe della vittima. L'analisi dei filmati di videosorveglianza reperiti dai carabinieri ha permesso di accertare la dinamica dell'accaduto e di identificare l'autore del fatto, persona nota agli investigatori per i numerosi precedenti giudiziari che annovera. Dopo l'identificazione sono scattate le ricerche dell'uomo anche all'interno delle abitazioni di familiari e conoscenti ma lo stesso si rendeva irreperibile già dalla sera dell'agguato. Le pressanti e continue ricerche dei militari hanno permesso di rintracciarlo in un'abitazione nei pressi del santuario della Madonna delle Lacrime. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa dove permarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Torniamo a Catania per parlare dell'arresto di un soggetto effettuato dagli agenti della Polizia di Stato, un arresto per detenzione illegale di armi da sparo. Vediamo il servizio. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo colto nella flagranza del reato di detenzione illegale di armi da sparo. Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell'illecita detenzione di armi, si è appreso che all'interno di una determinata autovettura potevano essere state occultate delle armi da fuoco. Per tale ragione i poliziotti hanno effettuato una serie di approfondimenti che hanno consentito l'individuazione del mezzo parcheggiato in una zona nei pressi del villaggio Santa Maria Goretti. Successivamente sono stati effettuati ulteriori accertamenti che hanno permesso di individuare e contattare l'uomo il quale di fatto aveva la materiale disponibilità della vettura. Alla presenza di quest'ultimo quindi si è proceduto alla perquisizione della stessa. Le attività di ricerca hanno dato esito positivo in quanto all'interno del bagagliaio dell'auto sono stati rinvenuti un fucile a pompa risultato provento di furto, una pistola semiautomatica calibro 9, una carabina ad aria compressa e munizionamento di vario calibro. Tutto il materiale con l'ausilio di personale del gabinetto regionale di polizia scientifica è stato messo in sicurezza e sottoposto a sequestro. L'uomo invece è stato tratto in arresto e dopo le formalità di rito su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato associato alla casa circondariale di Catania, Piazza Lanza. Parliamo adesso dell'arresto di un minorenne avvenuto a Ispica nel Ragusano, un ragazzo di 17 anni che i carabinieri hanno trovato in possesso di cocaina e munizioni. Tutti i dettagli del servizio. Lo scorso sabato, vigilia di Capodanno, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Modica, impegnati in un servizio di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 17enne ispicese celibe e disoccupato. Il minorenne, fermato nei pressi della propria abitazione a Ispica, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina suddivisa in 10 dosi per la cessione, contenuta in un astuccio e occultata all'interno degli slip, proprio per eludere eventuali controlli da parte delle forze di polizia. La perquisizione ha permesso inoltre ai militari dell'arma di rinvenire sei cartucce calibro 12, tutte inesplose. La droga e il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro, mentre il giovane è stato tratto in arresto e collocato nel centro di prima accoglienza di Catania, così come disposto dalla procura per i minorenni etnea. All'esito della convalida dell'arresto, avvenuta nella mattina del 3 gennaio, è stata disposta la misura cautelare del collocamento in una comunità della provincia di Ragusa. L'attenzione dell'arma è sempre molto alta e i servizi di controllo del territorio vengono organizzati proprio per raccontrastare la criminalità che sempre più spesso, anche nella realtà iblea, interessa ai giovanissimi, in talunicasi, protagonisti di episodi di violenza, vandalismo e spaccio di sostanze stupefacenti. A Fiumefreddo di Sicilia, invece, torniamo nella Catanese, un uomo è stato tratto in arresto per il reato di evasione. Era infatti agli arresti domiciliari, ma si è allontanato dalla sua abitazione per comprare della birra, ovviamente, senza alcuna autorizzazione di servizio. I carabinieri della stazione di Fiumefreddo di Sicilia hanno tratto in arresto per il reato di evasione un pregiudicato 45enne del posto. I militari, nell'ambito di un servizio di prevenzione dell'illegalità diffusa, hanno notato il 45enne al loro noto in quanto sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare a causa di una precedente vicenda giudiziaria di maltrattamenti in famiglia ed estorsione per cui era stato arrestato, mentre passeggiava indisturbato in via Gentile. Pertanto i carabinieri lo hanno immediatamente raggiunto e hanno notato che stava trasportando un cartone di birre e dunque hanno effettuato immediati accertamenti dai quali è emerso che il pregiudicato si era arbitrariamente allontanato da casa sua senza alcuna autorizzazione per andare a comprare le birre in un supermercato della zona. I carabinieri lo hanno posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto e ha disposto la sottoposizione alla misura precedentemente in atto della detenzione domiciliare. Ci fermiamo qui, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Grazie. 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 Grazie.